Questa terra è uno scrigno di ricchezze inestimabili che molto spesso sono coperte da un ampio strato di polvere burocratica. La dobbiamo spazzare via e quanto dichiara il presidente della regione Nino Spirlì al termine dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella cittadella Iole Santelli con il presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano, Annalia Paravati. Abbiamo discusso, tra l'altro spiega il presidente, dei giganti di Fallistro, una meravigliosa foresta di alberi plurisecolari che si trovano in Sila, a Croce di Magara e del Casino Mollo, che potrebbe essere un grande punto di riferimento del FAI. L'impegno, conclude Spirlì, è di snellire subito l'iter burocratico in modo da portare a termine un progetto, peraltro condiviso con il Ministero e con il FAI stesso, per mettere in attività il Casino Mollo e renderlo fruibile al più presto a tutti i visitatori. È un impegno personale, frutto del mio amore verso la Calabria e l'ambiente, ed istituzionale in quanto dovere nei confronti di questa terra. Grazie.